Si definisce una sognatrice con la passione per la danza, il teatro e la scrittura. Scrivere un libro è stato il coronamento di un sogno. In modo semplice, appassionato, Gaia Greco racconta in Un pensiero di te i tormenti e le paure di una giovane che ha perso in modo drammatico il suo fidanzato. Non mancano i colpi di scena in una storia ambientata nella città di Salerno. Come nasce l'idea di scrivere questo romanzo? Nasce inaspettata. Ero al liceo quando è nata l'idea di questo libro. C'era una vocina dentro la mia testa che mi raccontava questa storia e aveva l'esigenza di raccontarla anche agli altri e quindi ho deciso di scriverla. In realtà mi sono sorpresa da sola, mentre scrivevo molte volte mi sono anche commossa perché non avevo programmato quasi nulla. È la storia di una ragazza che si chiama Greta, che ha 18 anni e deve affrontare l'ultimo anno del liceo. Il problema è che non ama molto affrontare la vita a causa di una grande perdita avuta due anni prima, cioè la perdita del suo fidanzato Alessio, che si è suicidato senza un motivo. Lei cade in depressione, ha molti sensi di colpa perché le fanno credere che è stata lei a indurlo inizialmente, però non è stata lei e non si capisce il motivo. Quest'ultimo anno di scuola conosce un ragazzo, Alessandro, che si innamora di lei ma lei non gli dà speranze. Insieme vogliono capire il perché si è suicidato e quindi vanno alla ricerca di notizie che lei non conosceva.